Al posto di una produzione artigianale da anni abbandonata e diventata rifugio di sbandati, un'impresa privata ha realizzato sette appartamenti destinati all'edilizia residenziale pubblica. In sei mesi l'edificio di via Compagnetto da Prato è stato trasformato in due unità immobiliari, una con sei appartamenti e l'altra con ingresso singolo. Questo è il primo esempio in Toscana a questo punto che è stato realizzato sulla base proprio di un bando regionale e con risorse regionali, sulla base di un bando che ha sviluppato il Comune insieme ai PP, che è diventato tra l'altro anche il modello del bando regionale su cui fare questa tipologia di acquisti di edifici esistenti per le case popolari. È stato un intervento molto rapido, quindi una risposta che dà risposte immediate alle esigenze dei servizi sociali. È un intervento evoluto perché comunque è un intervento anche con una classe energetica alta e soprattutto ha tolto dal degrado un pezzo di città e ha fatto lavorare anche imprese locali e non solo. Intercettare fondi regionali, nazionali ma anche europei sarà una delle priorità di EPP. Abbiamo combattuto a lungo per arrivare a questo bando che non era nelle corde dei finanziamenti ordinari. Se non ci sono le fonti di finanziamento ordinarie, EPP è pronto ad andarseli a cercare i soldi dove sono, per esempio direttamente all'Unione Europea. Il noccio è nel disporre di progetti. Io ho chiesto nell'ultimo lode che i comuni dell'area ci finanzino un fondo di rotazione per progettare. Soldi che poi riprenderemo.